Come risponderà il Consiglio regionale della Puglia alla richiesta di boicottare economicamente Israele? Intanto che ci sono provvedimenti che prende la politica nazionale. Io sono perché su Israele si faccia un pressing internazionale forte, perché bisogna creare le condizioni, costruire le condizioni di una pace vera, una pace che significa il diritto per i palestinesi a vivere sul proprio territorio, il diritto agli israeliani di vivere sul proprio territorio, liberando i territori occupati e ponendo fine con immediatezza a questa inutile guerra, soprattutto a questo massacro di cittadini inermi, di giovani, di donne, di bambini. Io ritengo che il livello della diplomazia internazionale in questo momento è un livello molto distratto. Non si possono lasciare nel cuore del Mediterraneo due popoli allo sbando. Tengo che l'Italia, e quindi anche dalla Puglia partirà questa sollecitazione, l'Italia proprio nel semestre europeo debba far valere le ragioni per chiedere un intervento dell'Europa per preparare una pace vera.